ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video e come potete vedere dal titolo siamo qui con il primo episodio di road to tree ride race una nuova serie che ho deciso di portare sul canale ovviamente poi fatemi sapere se vi può garbare e questa serie consisterà in tutta la preparazione per la gara che forse affronterò adesso vedremo a marzo o a maggio e vedremo un pochettino quando riuscirò a farla e se riuscirò ovviamente perché praticamente con il segretario del club di cui facciamo parte io e mio papà diciamo perché adesso ovviamente avendo compiuto 18 anni mi iscriverò anch'io e si è deciso di proporre di farmi fare una gara al circuito di varano dove praticamente gareggerò in una gara di regolarità ovviamente non nel circuito completo di varano perché sarebbe un po difficile anche perché dovrei fare 12 giri e sarebbe un po impossibile diciamo allora vorremmo chiedere di farci fare magari un pezzo del circuito oppure un pezzo del paddock dove io posso fare tranquillamente 12 giri e poi verranno calcolati i tempi come succede di solito quando gareggia mio papà però questa gara sarà un'unica gara quindi non non farà una classifica vera e propria però diciamo che è un po una gara dove mi potrei prendere un po di onore ecco e praticamente parteciperò al secondo trofeo pizzeria laghetto che probabilmente si farà però non siamo ancora certi se riuscirò io a correre quella gara poi gareggerò ovviamente anche in coppia perché vorremmo sempre farla come gara coppie e niente quest'oggi volevo farvi vedere un po la mia preparazione che voglio iniziare a fare già da adesso così almeno sarò anche pronto perché comunque alla fine non sembra ma 12 giri io non saprò fino all'ultimo la pista quindi sarà tutta una cosa da capire volevo proporre di farmi fare almeno un giro di prova quindi diciamo un giro di prova libera per capire bene la pista anche due magari di ricognizione e poi iniziare con i 12 giri di gara ecco io ovviamente vorrei fare una gara dove in 12 giri riesco a girare abbastanza costante e veloce ovviamente nei limiti del possibile senza correre rischi eccessivi perché alla fine non serve perché comunque è sempre una gara di regolarità quindi non serve andare poi proprio al limite anche perché magari mi stanco e poi dopo va a finire che sballo i tempi ecco allora l'allenamento di oggi consisterà mi è stato consigliato mi farò cinque avanti indietro con la carrozzina quindi cinque spinte poi vedremo un po in base alla mia stanchezza magari riuscirò a farne anche qualcuno in più e dopo vi farò vedere delle alzate con le braccia a partire dalle gambe me le dovrò portare diciamo intorno alla bocca ecco e questa è questa cosa la farò anche lì dalle cinque alle otto volte vediamo un pochettino quanto riesco a resistere direi che come primo allenamento può andar bene poi magari se trovo in casa una pallina morbida potrei fare l'allenamento alle mani che mi serve in frenata con il mezzo perché alla fine vabbè non è una frenata clamorosa perché alla fine c'è la velocità non è che sia elevatissima però comunque bisogna dosare bene il freno per entrare giusto in curva e evitare che il disco si surriscaldi e cominci a grattare e quello a me che lo guido mi dà molto fastidio perché sento quella quel rumore lì mi dà mi dà come da tirare indietro mi dà fastidio quindi bisogna riuscire a dosarlo bene con l'aiuto della pallina secondo me riuscirò meglio a dosare il tutto adesso mi preparerò anche un po di magnesio così almeno mi dà un po di energia ed è molto semplice adesso vi faccio vedere anche quello ragazzi qui abbiamo il nostro carissimo magnesio eccolo qua adesso prendiamo una cucchiaiata in acqua naturale e lasciamo un pochettino che si scioglie e poi diamo una mescolata adesso ragazzi diamo una bella mescolata signore non è un granché eh non è che è lo spritz non è buonissimissimo però fa bene comunque prima di fare un esercizio fisico è bene idratarsi e prendere il magnesio che comunque dà un po di energia in più ecco bene siamo pronti per allenarci ragazzi manca ancora un'altra cosa prima di iniziare l'allenamento adesso mi faccio un po anche questo beverone qua che è diciamo un energy drink che di solito utilizza mio papà quando va in pista e adesso mi faccio questa bella borraccina non proprio tutta piena anche perché è un po dolce e niente lo beverò durante gli esercizi ragazzi cuffiettine messe e via con l'allenamento si parte no Pausettina ragazzi Bevuta Non male questo Beverone Un po' di sali minerali ci vogliono sempre Poi bisogna bene prendere fiato Per due o tre minuti Che comunque non sembra Ma avanti indietro così Con la sedia Cioè ha comunque il suo peso Che non è poi Ultra leggera Questa è super leggera Quindi c'è un po' più di differenza Diciamo che è un po' più pesante Della ultra leggera Buona ragazzi Andiamo con le ultime tre spinte Avanti indietro Per arrivare a otto Via Bene ragazzi Allora adesso Altro esercizio Quindi partiamo da qui Due mani Attaccate così Perché purtroppo io per alzare le braccia È l'unico modo E allora mi alleno Come riesco a fare Quindi Adesso Prendiamo le braccia E le portiamo alla bocca Fin dove riusciamo Io riesco fino a qui Quindi Ne facciamo cinque per adesso Due Tre Quattro E cinque Adesso ci fermiamo un attimino Un minutino di pausa È importante Sempre respirare Quindi Prendere l'aria E poi buttarla fuori Quindi Quindi quando si tirano su le braccia Si prende aria Poi quando si tirano giù Si butta fuori Nulla di difficile Bene Ripartiamo Altre cinque Dai Quindi ragazzi Siamo giunti anche alla fine Di questo primo episodio Di Road to Trilide Race Spero che il video Vi sia piaciuto In tal caso Vi invito a lasciare Un bel mi piace A iscrivervi al canale Attivare la campanellina Per rimanere Sempre aggiornati Sui miei video Seguirmi su Instagram Coltebella con due a finale Dove Alcune volte Metto anche Qualche reel Registrato con la Insta360 Quindi ragazzi Ci rivediamo Al prossimo video Ciao ciao